I russi affermano di avere respinto un attacco con droni contro una raffineria di petrolio nella regione di confine meridionale di Bryansk, respinto dalle forze russe che hanno dichiarato di aver distrutto tre droni. Gli attacchi con droni si sono moltiplicati negli ultimi mesi, con Kiev e Mosca che dichiarano di respingere alcuni di essi più volte alla settimana. Gli impianti petroliferi sono considerati obiettivi prioritari degli attacchi dei droni in Russia. Anche la penisola di Crimea viene regolarmente presa di mira. Le forze russe hanno abbattuto nove droni sulla penisola. La settimana scorsa, un drone ha colpito un edificio residenziale nella città di Voronès, ferendo due persone. Questa è stata la prima segnalazione di droni a Voronès, una città di circa un milione di abitanti che si trova in una regione più interna della Russia rispetto alle regioni di confine che la Russia solitamente segnala come bersaglio. La raffineria di petrolio, Druzba, nel distretto di Novozibkov, nella regione di Bryansk, sembra essere stata l'ultimo obiettivo degli attacchi con droni. Il governatore della regione ha dichiarato che l'attacco è stato respinto con successo grazie alla professionalità dei militari russi, che hanno distrutto tre droni. Non sono stati riportati danni. Gli impianti petroliferi sono considerati obiettivi prioritari degli attacchi con droni in Russia, in quanto essenziali per il rifornimento delle truppe. La penisola di Crimea, che l'Ucraina ha ripetutamente affermato di voler riconquistare, è un altro obiettivo regolare degli attacchi con droni. Il governatore della Crimea ha dichiarato che le forze russe hanno abbattuto nove droni sulla penisola. I droni possono essere utilizzati per raccogliere informazioni e per attaccare obiettivi militari o civili. L'attacco con droni contro un edificio residenziale nella città di Voronezh, che ha ferito due persone, è stato il primo segnalato in questa città. Voronezh è una città di circa un milione di abitanti che si trova in una regione più interna della Russia rispetto alle regioni di confine che la Russia solitamente segnala come bersaglio. Questo attacco dimostra che gli obiettivi dei droni possono estendersi oltre le zone di confine. Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e una delegazione africana sono arrivati a San Pietroburgo in Russia per cercare di porre fine al conflitto tra Chieve e Mosca. Il conflitto dura da sedici mesi e ha causato un impatto economico devastante, perdite di vite umane e instabilità globale. La delegazione comprende quattro presidenti, Ramaphosa, Mekisal del Senegal, Akaim dei Chilema dello Zambia e Azalias Umani delle Comore, attualmente a capo dell'Unione Africana. Nonostante gli sforzi per raggiungere la pace, la situazione sul campo di battaglia è in continua evoluzione, con Chieve e Mosca convinte di poter vincere sul campo di battaglia e con dubbi crescenti sul fatto che i negoziati possano dare frutti. Chieve sta continuando la sua controffensiva appena lanciata, il che rende ancora più difficile trovare una soluzione pacifica. Il presidente sudafricano ha dichiarato in una conferenza stampa a Kiev che è necessaria una «pace attraverso i negoziati», ma il presidente ucraino Zelensky ha escluso questa possibilità, affermando che «consentire qualsiasi negoziato con la Russia, ora che l'occupante è sulla nostra terra, significa congelare, il dolore e la sofferenza». La delegazione africana si è incontrata anche con il presidente russo Vladimir Putin, ma le sue dichiarazioni non lasciano presagire un atteggiamento favorevole al dialogo, penso che le forze armate ucraine non abbiano alcuna possibilità in il sud, così come in altre direzioni. Non ho dubbi su questo. La situazione sul campo di battaglia è in continua evoluzione e entrambe le parti sono concentrate sulle mosse dell'avversario. Putin ha chiesto che vengano prodotti più carri armati per soddisfare le esigenze delle forze russe in Ucraina, mentre Kiev ha riferito di successi tattici praticamente in tutte le aree in cui le nostre unità stanno combattendo nel sud. Inoltre, si sottolinea come Putin cerchi di ritrarre la Russia come un baluardo contro il neocolonialismo, nonostante stia conducendo un'operazione militare in Ucraina, che Mosca considera all'interno della sua sfera di influenza. La delegazione africana potrebbe cercare di garantire la futura fattibilità di un accordo che permetta al grano ucraino di raggiungere il mercato globale. Tuttavia, gli scambi di prigionieri e le esportazioni di fertilizzanti saranno probabilmente all'ordine del giorno a Mosca. I paesi africani si sono divisi sulla loro risposta ai combattimenti, con alcuni che si sono schierati con l'Ucraina, mentre altri sono rimasti neutrali o si sono orientati verso Mosca. Tuttavia, la situazione continua ad evolversi e il conflitto rimane un problema globale che richiede una soluzione pacifica. In sintesi, il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa e una delegazione africana sono arrivati a San Pietroburgo in Russia per cercare di porre fine al conflitto tra Chieve e Mosca. La situazione sul campo di battaglia è in continua evoluzione e entrambe le parti sono concentrate sulle mosse dell'avversario. La delegazione africana potrebbe cercare di garantire la futura fattibilità di un accordo che permetta al grano ucraino di raggiungere il mercato globale, mentre gli obiettivi riguardano anche gli scambi di prigionieri e le esportazioni di fertilizzanti. La situazione globale richiede una soluzione pacifica e i paesi africani si sono divisi sulla loro risposta ai combattimenti. Il ministro della difesa russo, Sergei Shoigu, ha visitato una fabbrica militare nella Siberia occidentale e ha chiesto di aumentare la produzione di carri armati per soddisfare le esigenze delle forze russe in Ucraina. Shoigu ha sottolineato l'importanza di migliorare le caratteristiche di sicurezza dei veicoli blindati, indicando che ciò è necessario per sostenere l'operazione militare speciale lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio dello scorso anno. La Russia sostiene che la controffensiva Ucraina è fallita, ma Kiev afferma di aver riconquistato diverse località e circa 100 chilometri quadrati di territorio, soprattutto sul fronte meridionale. Negli ultimi anni, la Russia ha arrestato più di 20.000 persone per aver protestato contro il conflitto in Ucraina. Molti di questi manifestanti sono stati accusati di aver pubblicato informazioni false o di aver discredito l'esercito russo. Anche i russi comuni, come Aleksandr Bakhtin, un musicista e attivista ambientale di 51 anni, sono stati arrestati e processati per aver criticato l'offensiva Ucraina. A differenza dei processi contro i critici di alto profilo, i processi ai russi comuni si svolgono di solito lontano dall'attenzione pubblica. L'udienza di Bakhtin, ad esempio, è stata seguita solo da un amico e dalla madre, convocata come testimone nell'accusa contro il proprio figlio. La madre di Bakhtin ha detto che il figlio è un pacifista e un ambientalista, e che non farebbe male a una mosca. Tuttavia, Bakhtin è stato arrestato per aver diffuso false informazioni sull'esercito russo sui social media, e ora rischia fino a dieci anni di carcere. L'anziana madre di Bakhtin ha detto alla Corte di aver firmato la sua testimonianza senza leggerla, notando che sembrava più lunga rispetto al colloquio avuto con l'investigatore. Quando il pubblico ministero le ha chiesto se pensava che l'esercito russo stesse compiendo un genocidio della popolazione ucraina, la donna ha risposto di no. Ha anche difeso il figlio, dicendo che è un pacifista e che è contro la guerra. Il giudice ha rinviato l'udienza il 20 giugno, e Bakhtin, che soffre di bronchite e problemi cardiaci, rimarrà in custodia. Secondo il gruppo indipendente per i diritti OVDinfo, più di 20.000 persone sono state arrestate in Russia per aver protestato contro il conflitto in Ucraina. Anatoly Roshkin, un ingegnere aeronautico in pensione di 75 anni, è stato processato a Lobnia, Mosca, e accusato di aver screditato l'esercito attraverso alcune pubblicazioni online. Potrebbe essere condannato a una pena fino a 5 anni di carcere. All'inizio del conflitto in Ucraina, Roshkin ha tenuto un picchetto di protesta solitario davanti al municipio di Lobnia, con un cartello che recitava, Paese mio, sei impazzito. Anche se la maggior parte dei passanti ha fatto finta di non vederlo, Roshkin ha continuato a postare sui social media nonostante il processo in corso. Il suo avvocato, Evgenia Grigorieva, ha dichiarato che casi del genere stanno diventando sempre più comuni. Roshkin ha detto di sentirsi in colpa per l'Ucraina e ha dichiarato, voglio che gli ucraini sappiano che non tutti i russi sono codardi.